In questo momento penso sia davvero essenziale che si rivolga alla famiglia per un sostegno genitoriale proprio per quello che stiamo verificando da tempo anche all'interno della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza nella Commissione Diritti Umani quando ci si occupa di temi legati all'infanzia e legati agli stranieri non accompagnati quindi i minori sempre pensiamo che ci sono davvero delle complessità rispetto alle quali oggi abbiamo bisogno di un supplemento valoriale e di un supplemento pedagogico sia nei confronti dei minori ma anche un supplemento di sostegno alle famiglie fin dalla nascita del bambino o alle famiglie adottive perché abbiamo davvero un forte rilevato un forte disagio e forse incapacità di cogliere i bisogni dei bambini, i bisogni dei minori in senso generale oggi cioè lavorare per un minore straniero non accompagnato vuol dire anche lavorare per un nostro bambino che è nato in Italia Grazie Grazie.